Ma, prima di tutto, prima di tutto, eh lo so Aldamaro me l'hai detto, prima di tutto ragazzuoli, visual spoiler di Alchemy, sì perché Amazonian ha fatto una live, un video, non lo so che cos'era, in cui ha spoilerato le carte che stanno per uscire su Magica The Gathering, tra l'altro, in Magica Arena ovviamente, tra l'altro non ho idea di quando arriverà, vediamo se c'è scritto qui nelle informazioni, dovrebbe arrivare questa settimana, no? Il 5 di marzo, infatti, il 5 di marzo, perfetto, la buona Amazonian ha spoilerato, andiamo ad analizzare, a fare il visual spoiler di questo piccolo set Alchemy, allora, iniziamo con un incantesimo, Scrutini of the Guild Pact, due mana, incantesimo non comune, di cui uno specifico bianco nel casting cost, Quando entri nel campo di battaglia puoi scegliere una creatura nella tua mano Se lo fai, quella prende perpetualmente, incorporare bianco e guadagna Quando lanci questa magia, crei un 2-2, eh, detective blu e bianco token Però dice anche che le creature multicolore che controlli impendono più 1-1 Ora, state attenti che incorporare fa diventare già multicolore una creatura se non è già bianca di suo Quindi se io incorporo una creatura verde e gli do un costo di mana bianco aggiuntivo, la fa già diventare multicolor Quindi questa abilità incorporare, che è un'abilità prettamente Alchemy, è un'abilità molto forte in realtà in alcuni mazzi È un'abilità molto forte che dobbiamo tenere assolutamente in considerazione Perché ad esempio, se io faccio questa 2 mana E incorporo una creatura di un colore differente dal bianco che ho in mano Penso verde O nero Quella creatura che poi faccio a 3 mana, se è un drop a 2, mi diventerà una Mettiamo che è una 2-2, no? Perché deve essere una 2-2 a costo 2, no? Diventerà una 3-3 In più mi fa un 2-2, quindi io a 3 mana faccio value per 5 Ah, è veramente una cosa molto forte, ragazzi Questa qui non è male, eh Perché a 3 mana fare un 5-5 di value Non è male per niente Bisogna tenerle sott'occhio, ora io non so se questa in particolare verrà giocata Però sicuramente se ci sarà un deck che sfrutta la meccanica incorporare Se ce ne sono tante carte buone Anche questa potrebbe essere buona Ti fai un 2-2 e una 3-3 Time, ti fai un 2-2 e una 3-3 No, 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 ti fai una 2-2 e una 3-3 Fai value per 5 Perché se è una 2-2 a costo 2 che diventa un 3 mana 3-3 Fai il 3-3 e il 2-2 Quindi fai un value per 5 Quindi è ottimo Non so se questa in particolare vedrà gioco Sicuramente non in historic, ragazzi Assolutamente non in historic, assolutamente no Perché è troppo lenta questa cosa in historic Però potrebbe essere buona Però potrebbe essere buona appunto in alchemy No ragazzi lo fai per 5 perché questa la rende Allora, se noi abbiamo in mano una 2-2 vanilla Ah, perché anche il detective è multicolore Avete ragione Ah, avete ragione Fai un value per 6 in realtà È vero, fai un value per 6 Fai 2-3-3 praticamente il turno dopo Scusate, avete ragione Perché anche il detective è bianco e blu E allora è forte quella spell qua Avete ragione, perdonatemi Anche il token è perché dice multicolore creature Non solo anche Non token Quindi in realtà fai un value per 6 Allora è buona questa per essere un uncommon Il dubbio che mi rimane è Vogliamo fare un turno 2 che non fa niente Per fare value per 6 dopo Potrebbe essere Allora, in historic rimane ingiocabile In alchemy può essere che la proveremo Può essere che proveremo Assolutamente sì No, grazie time Mi è sfuggita tantissimo Può essere che la proveremo Può essere che la proveremo Sleuting Instructor 2 mana 3-2 Già è forte E ha Disguise Ok, torna la meccanica Disguise È un elefante detective Quando lui O un altro permanente che controlla È girato faccia in su Vai a siccare una non-elephant creature Con costo di mana 3 o meno E la clocchi Però questa abilità Triggera una sola volta Ah Quindi non è che possiamo Disguisare lui e altre creature poi Una volta La prima volta che disguisi Mentre questa È sul campo di battaglia Fai quell'abilità lì Quindi tu A 3 mana Disguisi questo Lo flippi a 2 il turno dopo E siamo già a turno 4 Fai un 3-2 Che ti va a fare un 2-2 ward Beh Non è brutto eh Non è brutto questo cagnozzo Allora è aggro Perché ha un 2 mana 3-2 E in più In più in un mazzo Disguise Non ci fa schifo Non è brutta questa abilità Ciao da Edric Oh Questo secondo me è un pezzo Con disguise Abbastanza decente Da poter essere provato In costruito Cioè tu devi costruirci Un mazzo apposta Però lo promuovo Non mi sembra male Comunque è un 3-2 a costo 2 Quindi può aggredire bene Non è male Non so Solo alchemy ovviamente Tutti gli altri formati È impossibile Che poi gli altri formati Sono historic E historic role Quindi È timeless Ma decisamente Non lo giochiamo in timeless Spotlight falcon 4 mana 4-3 Artefatto Creatura uccello Come costo addizionale Per lanciarlo Devi avere collezionato 4 prove Ok Devi collezionare 5 prove Volare Quando entra nel campo di battaglia Se sono state collezionate Le evidenze Congiuri un altro Spotlight falcon Nella tua mano Quindi fa come i falchi Che giochiamo in pauper Solo che costa 4 mana E allora Se lo facciamo con 4 mana E basta Senza collezionare È un 4-3 volare Se collezioniamo le prove Te ne vai a congiurare Un altro in mano È pericolosa questa spell È un 4 mana volante Che In late game Si va Praticamente a riciclare Fa come l'angelo Che andavamo a prendere Gli angeli dal side Però Collect evidence Non è facilissimo Da fare Però siamo a turno 4 È artefatto Non è leggendario Vola Ma Secondo me questa È una carta Da mettere in 1 per E usarla Solo Quando hai bisogno Cioè veramente È quell'1 per Che dici Tanto mi fa Value infinito No a un certo punto Cioè Se sono aggro Se sono in una situazione In cui aggredire meglio La faccio 4 mana 4-3 Chi se ne frega Tanto vola Il turno dopo Può menare Se non viene tolto Se invece Siamo in late game Questo è un 4 mana 4-3 Che se ho tante già carte Nel cesso Potenzialmente mi fa 2-3 pezzi Di se stesso È interessante Come 1 per Dopo non so Se vedrà veramente Gioco in Alchemy Perché Alchemy È molto aggro Adesso Però è interessante È sicuramente interessante Da tenere sott'occhio Non so se vedrà gioco Per davvero Il caso del Lost Witness 2 mana Mitico Quando entra nel campo di battaglia Congiuri 4 carte Chiamate Fibbolp Il perso Nella tua mano Shuffli E peschi una carta Quindi 2 mana Pesco 5 Ah no 2 mana Congiuro Fibbol Nel mazzo Quindi 2 mana Congiuro 4 Pesco 1 Devo controllare Un omunculo Su il leggendario Per farlo risolvere Che è Fibbolp Puoi guardare La prima carta Del tuo Grimorio In qualsiasi momento E poi Puoi giocare Le carte terra E lanciare le spell Dal cima del tuo Grimorio È forte questa carta È forte Ma per risolverla Devi aver perso Devi avere Fibbolp O un omunculo Sleggendario Ma non credo Ce ne siano altri In Alchemy Ora no Allora Parliamo per Situazioni 2 mana Niente 2 mana pesco 2 mana pesco E va già bene 2 mana pesco Mi scombussola un po' Il mazzo Perché mi va a congiurare Nel mazzo della roba Quindi tutto il mio Algoritmo Terra Reciaone Ok Questo non mi piace Lo sapete Però Vediamo Cioè tra l'altro Abbiamo Fibbolp Quindi possiamo andare A vederlo Aspettate Perché Fibbolp Il perso L'avevamo visto Mi sembra Aspetta Fibbolp Forse era Vediamo Com'è che si chiama Fibbolp Fibbolp Hp Eccolo qua Sì è quella Che conosciamo È quella Che conosciamo Eccolo qua Questo è Fibbolp Allora È un 1-1 A costo 2 Che quando entra In campo di battaglia Peschi Si è entrato Alto Grimorri Peschi 2 Quindi va in sinergia Con quello lì E poi si va Sempre a rimescolare Quando Quando viene Targettato Da una spell Quindi comunque Ti fa Un pezzo Che in teoria Sinergizza Con quello Che vuoi fare Con questo caso Perché lui È il leggendario Monculus No lui Non sto dicendo Castronerie Giusto Esatto Esatto Cioè tu praticamente Fai pesco 1 2 mana Però tempo strega Rimane lì E ti aumenta Anche la devozione Al blu Nel caso Dovesse servirci O lo puoi Blincare Con Iorion Tra l'altro Non so se può Servire Ma lo puoi Blincare Quando controlli L'Homunculus Si risolve E da quel momento Lì Tu hai la prima Carta del tuo Grimorio Rivelata solo per te Puoi giocare Le terre E poi Lanciare spell Se c'è Fibbolp In cima Peschi 2 Sapete che potrebbe Diventare un mazzo In realtà Cioè tu fai UV Come sta dicendo Viking chat Adesso Secondo me Tu ci fai un mazzo UV Su questo Giochi solo Queste E Must remove Le peschini E ci vinci Ovviamente I planeswalker Ci giochi dentro Jace Perché tu non finisci Mai il mazzo Praticamente Se questo per caso Risolve Peschi l'infinito Hai sempre Una carta in più In mano E poi Comunque Fibbolp Ti fa vantaggio Quando entrai Una creatura 1-1 Che ogni volta Ti fa risorse Se entra dal mazzo Ne fa 2 Non muori mai Di 1000 Perché se viene Targettato Si rimbalza Nel mazzo Non si viene Brattato Ovviamente Non mi sembra Una brutta Carta Di magic Questa Però davvero Va fatto proprio Il mazzo È vero Carla Questa è una Buona domanda È da provare In Alchemy C'è Kalim Ragazzi Non c'è Kalim In Alchemy È già ruotato fuori No Non dovrebbe essere Legale Non dovrebbe essere Più legale No in Alchemy Kalim Però questa cosa Non è male Cioè secondo me Potrebbe diventare Buona Bisogna provarla Ragazzi Rimandata a giudizio Perché è interessante Ciao Ciao Davide È da provare Davide È da provare Emporium Topterist 2 mana 1-1 Male Artificere I totti dei controlli Non prendono Più due Più zero Forte Scusate È un 1-1 Giustificato All'inizio del tuo Unkeep Congegno una carta Chiamata Ornitotto Nella tua mano Ah Ah ragazzi Questa è fortissima Ammazza Questa è forte Questa viene Un common bomba Ragazzi Questa la giochi in Alchemy Anche in historic Forse anche in timeless Ammazza Questa è forte 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 Cioè io faccio Turno 1 Tottero Fonderia Turno 2 Questa Intanto ho menato Per 4 Se non mi hanno tolto Fonderia Che poi Non è detto Che io debba Usare per forza Fonderia In realtà Perché se poi A turno 2 Faccio questo Il mio Tottero Mena volante 3 Mena volante Per 2 Ammazza Questa è Questa è buona Ma poi va bene Con Ensole Va bene Con L'altro Con Glyph Col Glypho Che anima Fa diventare 5-4 Questa si prova Per forza Ragazzi I Totteri Sono gratis Li fai sempre Gratis A turno Non ti mangia Pezzi Ti da sempre Un Tottero Una risorsa In mano Questa è forte Forte Beh 4x Dai Questa la craftiamo In 4x Tanto è non comune Questa è una bombetta Questa è una bella bombetta Secondo me anche in Alchemy Può essere giocata questa Se fanno Totteri O comunque se ti serve un mazzo In cui i Totteri Possono essere aggressori O paranti Non fa schifo Non fa schifo Questa è promossa Alla grande Mi piace molto Buongiorno Scarf Mi piace molto Mi piace molto Ragazzi Intanto che siete qua Vi linko in chat ancora La Binance Cup di domani Mi raccomando Iscrivetevi C'è il messaggio pinnato Ma ve l'ho ricondiviso Gemme e codici in palio Quindi mi raccomando Mi raccomando Non mancate Non mancate Escogitator Sphinx 4 mana Grazie 3k Volare 4-4 Quando uno o più creature che controlli Fanno danno un giocatore Investighi Ammazza Questa è già forte Ha un mana Sacrifichi un clue E sicchi un instant Ha una sorcery Ah però Carina Carina ragazzi Intanto è 4 mana 4-4 Volare Quindi va bene Ma poi se faccio danno Investigo Cioè però una volta sola Perché mi dice One or more Quindi una volta sola Investigo Eh ci sta Scarf Ci sta Carina Allora Buongiorno Rugge Questa è veramente Carina ragazzi Il fatto è Dove la giochiamo Perché non ha flash Non può essere messa in uvi tempo Costa Costa troppo Non può essere messa in mono blu Forse Purtroppo Purtroppo Sottolineo Non ha un mazzo dove stare Forse Non ha un mazzo dove stare Perché Quattro mana Sottanti Cioè Potremmo metterla Tipo in qualche mazzo V Soldier Umani Agro Perché tu la fai in curva E comunque ti fa Un clue Che poi Se non la usi con lei Lo usi Per pescare Per far vantaggio Però è troppo più forte Mirel Allo stesso costo di mana Non so se vedrà gioco Peccato perché È una ottima carta Ma Non lo so Poi il fatto che debba Specificatamente Sacrificare un clue Anche quello La demoli La dem Insomma La indebolisce Mapping the maze Due mana istantaneo Scegli un instant Una sorcery Nella tua mano O nel tuo cimitero Perpetualmente guadagna Incorpora blu E guadagna Quando Lanci Questa spell Pesca una carta Poi fai tornare Una creatura multicolore No scusate Un istantaneo Una stregoneria multicolore O stregoneria Dal tuo cimitero Alla tua mano Ok Quindi Ci sono Allora Ci sono Se tu giochi Più di queste Ti ricicla Ogni due di queste Una spell Che hai fatto Se non c'hai già Una spell multicolore Colore di base Nel cesso Però deve essere Istantaneo Una stregoneria Ti fa fare all'infinito Le lighting helix A un certo punto Quella roba qua Non all'infinito Però è un buon riciclo Allora Pensiamo dove vogliamo Metterla Tipo In un uv control Trova spazio Questa roba qua No No Perché Dove la mettiamo Su una vratta Però costa Uno in più Poi la vratta Dove la mettiamo Su una Deduce Tre mana Pesco due Beh potrebbe starci La mettiamo Dove la mettiamo Su una Removal A due mana Però poi mi costa Tre la removal È vero che c'è L'effetto Di far vantaggio Però Quindi ti fa costare Di più Tutte le spell Che probabilmente Hai in mano Tu ne scegli una Ovviamente Però potenzialmente Una spell Di quelle che hai in mano Ti farà comunque Un pesco uno Pagando un mana In più Il problema grosso Ragazzi Il problema grosso È che questa Non fa niente Da sola Non fa nulla Cioè è un due mana Passo La devo fare Sempre in Andy Oppo Quando in Andy Oppo potrei fare Deduce Appunto che mi pesca Mi fa pesca Il clou No Secondo me Questa non vede Gioco Peccato perché È molto interessante Ma Non so se ne vale La piccola Io dovrei Dovrei sprecare Degli slot Per questa Che probabilmente Fanno già meglio Di questa No No non mi piace Non mi ha convinto Non mi ha convinto O minus Lockbox Due mana Artifatto clou Artifatto clou Quando entra Nel campo Di battaglia Seguramente Scegli un numero Tra 1 e 20 Ok Quando un avversario Lancia una spell Col mana value Uguale al numero Scelto Lo sacrifichi Se lo fai Copi quella spell E peschi No Copi la spell E scegli un nuovo Bersaglio Per la copia A 2 Lo sacrifichi E peschi Mamma che merda Ma questo è bruttissimo Ragazzi Cioè devo aver fatto Toxiz Per sapere Per forza Di cosa Almeno Che cosa farà Oppure la fai Random La fai sempre a 2 Che è il numero Più giocato In magic La fai a 2 E se random Lui lancia Una spell a 2 Io la copio Però non la counter E poi mi fa A 2 mana Lo sacco pesco Ma quanto fa schifo Questa carta Mamma mia È bruttissima Ciao Mauro Questa è proprio Brutta Brutta Ma brutta Ragazzi Come carta Non farà mai Vero vantaggio È 4 mana Pesco 1 Oppure 2 mana Copio una spell Lanciata dall'oppo Tra l'altro Ragazzi fa cagare Questa spell qua Bruttissima Bruttissima Cioè tra l'altro Lo devi sacrificare Quindi non puoi copiare E poi sacrificarlo Pescare Cioè lo sacrifichi Comunque Mamma mia Ma bruttissima Questa carta qua Poi 3 mana 3 mana 3 1 volante Cackling Observer Creatura Imp Quando entra nel campo di battaglia Un avversario di oversario Rivela ogni non land Ogni carta non terra Nella propria mano Puoi scegliere Una o quelle carte E la esigli Quando lascia il campo di battaglia La carta esiliata No Il proprietario Della carta esiliata Sicca Una non terra Con questo di mana Inferiore Alla carta esiliata È il pipistrellino A 2 mana Senza lifelink Con 3 di forza Con la differenza Però Che la carta Non gliela ridà Ma gliene dà Un'altra Con lo stesso Con il costo di mana Minore però Quindi Se io gli esigillo Shelly Col cazzo che gli ridò Shelly Questa è forte Ragazzi Oh Questa è una carta Forte Dai Mauro Mannaggia Questa è una carta Forte ragazzi Questa è una carta Spawn È il torneo Dei sub Per domani Devi esserci Mi raccomando Ti iscrivi su Meccerino Ti iscrivi sul discord Di MTGA Daily Challenge E Praticamente Ci sono gemme E boost E scusami Gemme e codici Extra per arena In pallio Buongiorno Spawn Se arrivi in top 8 Poi ci sono quelli random Che vengono estratti Per chi non è in top 8 Ed è tanta roba È vero Scar Vero Vi rimetto il link in chat Guardate Pam Allora ragazzi Questa è veramente Buona Questa è veramente Veramente Buona Questa è forte Ragazzi È in curva Se tu fai Turno 1 Scarto Turno 2 Pipistrello Turno 3 Questa È l'oppo Non è contento Alle 14.30 Spawn Durante la nostra 12 ore Dai Spawn Iscriviti Forza Forza Allora Forza Historic best of 3 Mi raccomando Beh Allora Io questa carta La promuovo La promuovo tantissimo Ragazzi Questa la promuovo parecchio Perché mi sembra Molto molto Bona Mi sembra veramente Bona E Mi sembra forte Sia in aggressione Che in Fastidio Quindi Questa la giochiamo In Alchemy Sicuro E basta Ovviamente Perché in Timeless In Historic È impossibile Però è una buona carta È una buona carta Questa Promossa 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 Lurking Lurking Spinecrawler 4 mana Scusate se è piccola Ma non sono io Che faccio queste Grafiche L'hanno fatta direttamente Loro Allora Quando entra nel campo Di battaglia Poi scegli Una Nolan Carta Nella tua mano Se lo fai Quella prende Perpetualmente Incorporare Due Guadagna Quando lanci Questa magia Ogni avversario Sacrifica una creatura Ah Ogni avversario Che non può Scarta una carta Ah Quando lanci Una multicolore Per ogni Colore di quella magia Ogni avversario Perde una vita E guadagna una vita È forte Quella carta qua Peccato che abbia Un costo di mana Proibitivo Per il gioco competitivo Perché questo è un Quattro mana Cinque quattro Che è buono È il contrario È il contrario Di scegli No Quindi ci può stare Nelle statistiche Allora no Fermi Potrebbe trovare Gioco in realtà Però Perché ogni spell Che poi fai Fai ditto Fai ditto Scarto Cioè ogni spell Quella che tu incorpori In realtà Però è il quattro mana Che mi fa storcere Tanto il naso Quattro mana Sono troppi Ragazzi Sei già morto Da mono red Se giochi con la carta qua Non ha neanche Il regain life Di shield red No No Gli slot del quattro Sono troppo Sono troppo pieni Anche in alchemy No non mi piace Perforatore Coccodrillo Sei mana Sei cinque Creatura Coccodrillo Quando entra nel campo Di battaglia Per ogni creatura Avversata Controllata dal tuo avversario No Altra multiplayer Per ogni creatura I tuoi avversari Che controllano I tuoi avversari Quindi c'è il multiplayer Cento cento Ragazzi Congiuri una carta Chiamata Stab wound Ah ok Sul battlefield Attaccata a quella creatura Allora la stab wound Com'era Ah cazzo forte questa Gli da meno uno meno uno no? Meno due meno due Gli da meno due meno due La stab wound E poi gli fa perdere due vite Ma è forte quella carattera qua Fermi 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 Dove sei? Fammi tornare Dove sei? Qua Sì hai Sì serai Ma se lo mandi sì Sul discord ovviamente Allora Tralasciando il fatto Che è un ciclo due Che quindi tu a due mana Comunque peschi scarti Cioè scarti peschi Questa Fa un ETB Su tutte le creature Su tutte le creature di Oppo Ti crea devozione Ed è forte questa cosa E in più Poi fa perdere le vite Cioè non è come il vurmone Quello che fa meno due meno due A tutti e basta Fa la stessa cosa Ma se per caso di là Sono rimaste delle creature Rimangono incantate E all'inizio L'oronghi poi perdono due vite È fortissima questa carta Sta benissimo in un reanimator Sì Disse Raim Questa è forte ragazzi A Inalchemy la si gioca 100-100 Dai Questa è forte 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 Bella Promosso Non posso non promuoverla Ma lui che va dalla cicli Cioè Se mi dite Eh ma costa troppo Eh ma la cicli Cioè Ciao ghianda C'è la cicli E poi la metti nel cesso La reanimi ragazzi No no è carina È carina In un reanimator è molto carina Questa la proviamo anche in historic Sicuramente Sicuramente Decide Ovviamente Bella 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 Promossa 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 Sì Poi Snarfang Vermin Creatura Ratto Ha un mana 2-1 È già forte Quando fa danno De combattimento A un giocatore Se quella creatura No fa danno De combattimento A una creatura Se quella creatura È ancora sul campo Di battaglia Sospetti Quella creatura E Perpetualmente Guadagna Quando La creatura Sospettata Muore Mentre questo È nel tuo cimitero Quell'avversario Perde una vita Allora Tralasciando il fatto Che l'effetto Fa un po' cagare Ma in realtà Toglie un bloccante Se ci pensiamo Cioè dà un minacciante All'oppo Ma gli togli un bloccante E poi potenzialmente Gli fa perdere una vita In futuro Questo è un topo 2-1 Quindi il mazzoratti Prende un buon pezzo In realtà Prende un buon pezzo Due mana 2-1 Ce n'è già un altro Credo O è un mana 1-1 Che poi fa meno 1 O meno 1 Però due mana 2-1 Non è male in ratti Ti mangia monastri Swispir Cioè nel male che vada È un bloccante Fa danno a Swispir Swispir prende minacciare Non può più bloccare Attacca Scegli ciampa Non può più bloccare No è carino ragazzi È da provare È da provare È non comune Si può craftare Craftatela È un 4 per dai È non comune Via Il caso del market melee 2 mana Quando questo caso Entra in campo di battaglia Fa un danno A qualsiasi bersaglio Il danno Non viene rimosso Dalle creature Durante la fase di pulizia Per risolverlo 3 o più creature Devono essere danneggiate A Quando tu attacchi Con una O più Creature Questo caso Fa altrettanto danno Diviso A tua scelta Tra un qualsiasi numero Di bersaglio Di bersagli Quindi 2 mana Niente Però Faccio Monaster Swispir 2 mana 2 e 3 Monasteri Problema Perché tra l'altro Comunque fa un danno Questo Quindi è 3 danni Con monasteri Di primo È 3 danni Oppure Faccio un danno A un pezzo di oppo Problema Avremo mai 3 creature Danneggiate No Sì Cazzo È facilissimo Da fare Perché Conta le tue Cioè se mi ciampa Una Sono due Creature Danneggiate Però deve essere Deve essere per forza All'end step Ragazzi Per risolvere Un caso O risolve A prescindere No Deve andare All'end step Vero Quindi non può Non può succedere Nei blocchi Perché se poteva Succedere nei blocchi Era molto Più forte Così È molto Rischioso Come pezzo Però In alchemy Però In alchemy Il problema È che Non c'è più Kumano Ecco Bravi Con end festivities Però end festivities Non c'è in alchemy Giusto È ruotato fuori Eh Rischia un po' Carl Sì Però Se risolve È fortissima Se tu poi Attacchi con tre Fai bolt Peccato È difficile che risolva È difficile che vada A compimento Quel caso qua Ovviamente Si gioca solo In alchemy Ragazzi Questa Questa non si gioca Da nessun'altra parte Il danno viene rimosso Quando tu Passi il turno Se una creatura Ha ciampato Una tua attaccante Non è morta La sua costituzione Si resetta Il danno che aveva sopra Viene rimosso È quella cosa lì Con questo non viene rimosso Non penso Perché È molto difficile Che risolva Cioè tre pezzi danneggiati E lo giochi in monored Tu devi aver già vinto In monored Non puoi Permetterti Quella roba lì Il concert cabumist Tre mana Quattro due Trample Quattro due Goblin artificiale Quando entra nel campo di battaglia O è girata faccia in su Fa x dannia Un target opponent Dove x è il numero Di non creature Che tu hai castato Dall'inizio Del tuo ultimo turno Ammazza Fermi Allora Questo è Tre mana Due due Word Questo è Tre mana Due due Word Quindi Questo funziona A turno quattro A turno quattro Devo avere Altri Allora Se ho i tre mana Con cui ho fatto lui Faccio Play with fire Play with fire Play with fire Play with fire Mettiamo Sono quattro danni Eh però fa schifo ragazzi Perché è vero che diventa Un trample Quattro due Che può attaccare Lo giri Ed è trample Però Questo fa Fa due danni Se ho fatto due spell Cioè deve andare In accumulo Però costa troppo Però costa troppo Sì arena Ha un po' di problemi Max Può essere Che sia Che non ti si apra Però Mi sembra un pochino Troppo macchinoso No sto coso Sì è un pochino Troppo macchinoso Forse No si è troppo macchinoso Bocciato Cioè sta benissimo In un mazzo storm Ma non credo Che ci sarà mai Construction arsonist Due mana due due Goblin rogue wizard Mago Attenzione Quando entra nel campo di battaglia Puoi scegliere un instant Sorsi Nella tua mano Se lo fai Quella guadagna Per perpetualmente Incorporare uno E guadagno Quando lanci questa spell Fa due danni A ogni avversario Quando lanci Uno multicolore Prende più uno Più uno Fino al fine del turno Per ogni spell Di quel colore Eh sì Joe Però è Comunque Devi fare quattro spell Per fare quattro danni Capito Quello è il discorso Ecco è un po' Un po' Un po' Un po' Un po' così Niafo Grazie mille per il quinto mese Grazie mille di cuore Allora Io questa ragazzi La vedo molto forte Allora A parte il fatto che In domain Con l'eyline È fortissima Questa roba qua Ma al di là di quello Questa non la giochiamo In historic Ragazzi In maghi Cioè Questa mi fa diventare Le cariche 3 Più 3 Più 0 Rapidità Due danni Con un mano in più E lui Diventa un 3-3 Di base I bolt Diventano Dei lightning strike Che però Fanno 5 danni Ma mi sembra fortissima Questa carta Ragazzi No ma ragazzi Ma questa la giochiamo Per forza In maghi Scusate Ve la ingrandisco Perché Questa è forte 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 Adesso ve la ingrandisco A me Sembra forte 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 Questa carta qua Allora È vero che fa Peggio Di arcanista A turno 2 Cioè Arcanista È troppo più forte Di questa Però Mettiamo in caso Che io ho fatto Turno 1 0-3 Turno 2 Questa Se ho in mano Un bolt Un bolt Dei maghi E mettiamo Boh Un play with fire Una carica Una rage Un pesco 1 Quello che volete Diventa fortina Quella spell qua Cioè Quel bolt Dei maghi Che inizia a fare 5 danni A 2 mana Le iteration Che comunque Fanno 2 danni E paghi 3 mana Cioè fa diventare un sacco di spell Fa diventare un sacco di spell Delle fiamme di Anor Quella roba qua Eh ragazzi Quasi fiamma di Anor Quasi Un attimo che rispondo Una telefonata Quasi Fortune Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti dà uno shock in mano. È forte, forte, ragazzi. Esatto, Carle, esatto. The Paxe, grazie mille per l'iscrizione su YouTube. Mi sembra buona, buona, buona. Secondo me è la più forte che abbiamo visto finora. Bella, promossa, 100%. Questa si gioca in multi. Poi... Show aside. Sorcery ha un mana rosso, attenzione. Se non eri lo starting player, puoi lanciarlo come se avesse flash. Fa tre danni a creatura o planeswalker. Buon, ragazzi miei, salutiamo a Braid per sempre. È stato bello giocare con te. Ciao a Braid. No a Braid, perdonatemi. La spela ha uno che fa tre danni, dai. Strangle. Salutiamo Strangle per sempre. Salutiamo Strangle per sempre. Strangle al di là dello standard. Finita. Si gioca in Pai. Strangle finita in historic timeless alchemy. Finita. Finita Strangle, ragazzi. Finita. Finita Strangle. Finita. Questa è troppo più forte. È troppo più forte. Promossissima. Craftatela. La giochiamo in tutti quei formati lì. La giochiamo anche in historic. È troppo forte, ragazzi, questa. Questo è un fake bolt. E un fake Strangle più forte di Strangle. Quindi tanta roba. Ciao Luca! Troppo forte. Promossa al 100%. Un uncommon, tra l'altro. Strangle Things, esatto. Questa è veramente troppo più forte, ragazzi. Esatto. Esatto. Esattamente. È come Shock dopo Play With Fire. Beh, questa l'avevamo già commentata. È fortissima. Questa è talmente forte che dà multicolore anche a se stessa. Questa è fortissima, ragazzi. Questa è veramente... Questa è veramente forte, 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 forte. Questa è veramente forte. Questa dà multicolore anche alla creatura che incorpori, quindi gli dà Ward e più 4, più 4, ragazzi. Questa roba qui è fuori di testa. Questa l'avevamo già commentata, non ci perdiamo troppo tempo. È forse la carta più forte dell'espansione. Questa è veramente, veramente tosta. Questa è forte, forte, forte. Poi, Rampaging Urso Aguna. 6 mana 4-4. Bear, Lizard, Mutant. Trampol, War 2, Rapidità. 4-4. Prende più 2 più 2 ogni volta che questa creatura ha attaccato. Ah, però! Cioè, questo è un 6 mana 6-6 Trampol, Rapidità, War 2. Che però puoi fare a costo 5. Cioè, tu puoi farlo a turno 4, però. Uè, ma è forte questa carta qua. Cioè, questo è un 3 mana 2-2 Ward. Che poi diventa 6-6 Trampol, Rapidità, War 2. Non so se avremo il tempo di giocarla. In Alchemy. Però è forte. Esatto, HC, esatto. Ma, no, scusate, lo fate col Disguise tanto, ragazzi. Cioè, disghisate a 3 mana, fate un 2-2. Quindi, questo è un 3 mana 2-2 di base. Dovete considerarla così. Questo è un 3 mana 2-2 Ward. Ok. Il turno dopo decidete se girarla. Che poi potete farlo a tempo instant, vi ricordo. Oppure se tenerla così. Cioè, non siete obbligati a girarla. Questa è 3 mana 2-2 Ward 2. E poi diventa la bestia. No, è forte questa qua, ragazzi, eh. In Alchemy. In Alchemy. A me non fa schifo questa carta, ragazzi. Cioè, se la fate a tempo instant. Cioè, avete un 4-4 che poi mena per 6, eh. Protetto, perché è Wardato. Tramplante. A me non fa schifo, ragazzi, questa. Per un formato come Alchemy, no? Oh, è carina. Dai, è bella. Dai che è carina. Questa disguise qua è forte, ragazzi. Qui il disguise è forte. Bella, bella. Ciao, buongiorno a tutti, ragazzi. Vi ricordo la Binance Cup di domani. Iscrivetevi che è gratis. Forza. Relics of the Rubble Belt. Sorcery, 3 mana. Attenzione. Drafti una carta dal suo spellbook. Quindi, due volte. E poi metti quelle carte sul campo di battaglia tappate. Allora, io spero che le... Siano terre, le sue spellbook. Adesso andiamo a vederle. Adesso andiamo a vederle, perché ci sarà lo spellbook, vero? No. Porca miseria. Non c'è lo spellbook. Beh, saranno terre, dai. Consideriamo che siano terre. Quindi ti fa 3 mana, con giuro 2 terre. Ah, però non è detto, perché dice spell, cioè dice carte, e poi solo una va sul campo di battaglia tappata. Sì, però non puoi rischiare. Cioè, non puoi prendere una sorcery che entra tappata. E non penso che vada a fare tutt'ora per una creatura. Ah, possono essere anche incantesimi? No, perché dice tappata. Saranno terre, dai. O terre o creaturine. Peccato non avere il... Lo spellbook, però. Sarebbe molto interessante saperlo. Anche artefatti, è vero. Eh, peccato. Questa è rimandata, non sappiamo. Non sappiamo. Non sappiamo. Sono Insignet. Ma hai già visto lo spellbook, Eisenberg, tu? Sproutwatch Driad. 3 mana, 3-3. All'inizio di ogni combattimento, guadagna volare alla fine del turno. Si controlla una creatura... Ah sì, questo è la creatura nera di Fate Reforged. Solo quello che fa con le carte che avete in mano. Guadagna volare, oppure in base alle carte che tu hai in mano con quelle abilità lì, lei guadagna all'inizio del combat quelle abilità lì. Allora, volete la mia? Questa carta è fortissima. Questa carta è fortissima nel mazzo costruito ad hoc. Perché se tu in mano tieni... Eh... Atraxa, questa è un volare da Touch Lifeling. Al combat. Il problema di questa carta, grossissimo, che la rende probabilmente poco giocata, è che... Non solo devi averla in mano, quella carta, ma deve arrivare al combat. E Vigilance, è vero, Serheim. Ma deve arrivare al combat. E non credo che basti questa cosa qua, sapete? Non credo che basterà quella roba lì. Però... Non si può mai dire. È interessante però. Forse è più interessante in Historic che in Alchemy questa. Perché in Historic ti fai il mazzo opposta, in qualche modo la porti al combat e poi fai. Però... Boh. Boh. È da provare. Rimandata giudizio, è da provare. Woodland Investigation. Woodland Investigation. Un mana. Sorcery. Passa il rassegno da... Il tuo Grimorio per una terra base. La riveli e la metti nella tua mano. Poi la shuffli. Perpetualmente diventa un clue artefatto token in addizione ai suoi tipi. E guadagna due, sacrifica questo permanente e pesca una carta. È pericolosissima questa carta. Se ti fanno abraid... Te lo spaccano. Cioè tu vai a tutorare una terra che in più diventa artefatto e che ti può fare clue? Però è carina, eh, ragazzi. È pericolosissima ma è molto carina. Perché se non hanno SPAC artefatto o... Se non hanno una removal sulla tua terra, tu però hai rampato di primo. Hai fatto domain perché è basica. E in più in futuro potresti usarla per pescare, eh. Secondo me questa si gioca in Alchemy. Forse anche in Historic. Però in Historic c'è il problema di Purga. Eh, in Historic c'è Purga, non la giochi. La giochi in Alchemy Domain. Craftatel è un 4x facile, secondo me, questa nei mazzi Domain. Per quanto, ripeto... Ah no, però fermi. C'è ancora lockdown in Domain. In Alchemy. Lockdown è ancora legale in Alchemy. Perché se c'è lockdown legale in Alchemy non la giochiamo. Perché ti slanda. È un problema, eh, se c'è lockdown legale in Alchemy. Dovrebbe essere legale ancora. E allora basta, non si gioca. È troppo pericolosa. È vero che ti fixa il domain e che ti rampa, ma è troppo pericolosa. Ti fai questa, fai terra e poi quello là ti fa tre mana. Ti tolgo una terra, ti tolgo la board. No, è troppo pericolosa. Lockdown specifica no, land. Aspetta, 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 aspetta. Se lockdown specifica no, land, cambiamo tutto. Permanente non terra. Ha ragione, quindi in teoria non dovrebbe funzionare con lockdown. E allora già è più forte. No, vabbè, qui è un caso specifico perché diventa anche un artefatto, capito? Però se dice non l'anda, non lo toglie. Perché è sia artefatto che terra. No, allora è carina. È sempre pericolosa, ma è carina. Perché ti va a fixare il domain. E allora presa, dai, craftate la 4x. Dai, sì, è carina allora per Alchemy. Emara, o Emara, voice of the conclave. 3 mana, 2, 3 convocca, è già forte. Quando entra... È però leggendaria, mannaggia. Quando entra nel campo di battaglia drafti una carta dal suo spellbook. Eh, che cazzo, vorrei lo spellbook però. Non c'è. Non c'è lo spellbook, mannaggia. Non c'è lo spellbook. Peccato. Però se per caso ha uno spellbook buono, ragazzi, si gioca, eh. Eh, sarà qualcosa tema token. Però questo è un 3 mana convocca. Cioè la fai di secondo, ragazzi, eh. Cioè questo è un 2 mana pesco. Ma si gioca di base quella roba qua. Cioè questa la possiamo giocare anche in historic, ragazzi, eh. Cioè se io ho fatto turno 1 per Sentinel e non me l'hanno tolta. E faccio turno 2 questa. Che è 2-3 pesco 1, praticamente. Mi sembra molto forte. Mi sembra molto carina. Cioè poi per caso il suo spellbook è decente e si gioca, eh. Bella. Furgul. Quagnurturer. 4 mana 2-4. Leggendario creatura elfo sciamano. All'inizio della Twin Step congiungi una carta chiamata Slime 2 Leech sul campo di battaglia se non controlli i leech. Altrimenti prendi un più 1 più 1 per ogni leech che controlli. Ah no! Altrimenti metti un segnalino più 1 più 1 su ogni leech che controlli. Ok. Sacrifica una creatura. Aggiungi un... Uh, attenzione. Aggiungi una quantità di mana verde uguale alla forza della creatura sacrificata. Allora, al di là dei leech c'è quella roba lì. Questo ti dà un bel po' di mana. Perché può sacrificare se stesso anche male che vada, no? Quindi se tu hai già fatto 4 mana questo, il turno dopo hai 6 mana. Il turno dopo hai 6 mana. E comunque questo è un 4 mana che ti fa Slime 2 Leech che è... Fammi vedere che cos'è. Slimey... Aspetta, me lo son perso. Slimey... Slimy Dual... Dual Leech. Non c'è? È questa. Allora... Cioè questo è un 4 mana che ti fa 2-2-4, quindi. Ah, e poi darebbe Death Hatch il combat dopo. Quindi è carino in realtà, attenzione. Ma ragazzi, ma questo è un 4 mana che ti fa 4-8 di value? Il turno dopo potrebbe potenziare la lumaca? Oppure sacrifichiamo la lumaca, tanto poi la rifacciamo e aggiungiamo 2 mana? Ragazzi, non mi sembra scarso. Il problema è che deve arrivare l'end step, questo. Però... Se ci arriva fa 4 mana 2-2-2-2-4, ragazzi. Guarda che è forte quella roba qua. Allora, la lumaca muore per forza perché la usi per rampare. E poi la rifai. Se arrivi in end. Non mi sembra scarso per niente, ragazzi. Io lo proverei in un Golgari, questo. Io la proverei in un Golgari, questa, eh. In uno per, che mi frega. Da provare. Non mi sembra per niente scarsa. Izet Polarizer. Polarizer. 2 mana 2-1, viascino mago. Forte. Quando muore, congiuri una carta chiamata Ionize o Electrolyze nella tua mano. Quindi ti dà Ionize o Electrolyze. Quindi ti dà o un counter, o due danni pesca una carta. Però quando muore. Però quando muore. Allora, in Historic non la giochiamo. In Historic però non la giochiamo, ragazzi, eh. C'è da vedere in Alchemy se ha qualche sinergia. No, ragazzi, ma in Maghi non ci sta questa. Eh, con Flash è stata fortissima. In Maghi purtroppo non ci sta. La curva 2 è troppo intasata. Già dobbiamo provare l'altro pezzo. In Alchemy dove rimane legale Balmor, se non ricordo male, si può provare. è che comunque, ragazzi, se dovete giocare un viascino in Maghi, lo giocate budget e giocate quello che quando entra fa due danni. E fa la stessa cosa di questo, praticamente. Senza che debba morire. Quindi è un pochino bocciata questa. Peccato. Peccato. Eccoci qua. Juggle the performance. Ciao Sherry, buon sabato. Tremana. Ogni avversario scarta la sua mano. Poi congiura un duplicato di ogni, ehm, ognuna delle sette carte che ha, scusate, poi congiura un duplicato di sette carte del proprio Grimorio nella propria mano. Quei duplicati guadagnano perpetualmente che possono essere lanciati da qualsiasi colore di mana. Tipo di mana. Quindi. Ciao Croft. Questa è. Scarto la mia mano e scarta la mano anche l'oppo. Congiuriamo sette duplicati delle carte del nostro Grimorio a random. però dell'avversario alla nostra destra. Quindi io congiuro quelle della mia oppo a destra. L'oppo alla mia destra congiura quelle dell'oppo alla sua destra. Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi facciamo praticamente uno scambio di risorse. Però il problema ragazzi qual è? È che se io ho zero carte in mano pesco sette dall'oppo. Ma l'oppo comunque pesca sette anche lui. delle mie. Boh. Secondo me questa carta è orrida. Perché far pescare l'oppo non è mai bello ragazzi. Tra l'altro non puoi fermare la pescata perché non è come con Mitenarset queste vengono congiurate. secondo me è una carta che fa cagare quella carta qua. Secondo me fa schifo questa carta. Però è l'avvento del Brawl Multiplayer sicuramente. Roaldesque Prime Specimen 4 mana 4 5 leggendario creatura umano mutante volare azza 4 mana 4 5 volare 4 mana quando lui o un altro permanente che controlli ha girato faccia in su puoi pagare x se lo fai e se x è uno o più congiura un duplicato di una creatura random con costo di mana x nella tua mano e la clock guadagna mana ibrido verde o blu la giri a faccia in su a a allora partiamo dalla base di questa carta questo è un 4 mana 4 5 volare e già direi che schifo non ci fa però nel magic 2.0 non bastano le stat consideriamolo come con disguise quindi 3 mana faccio un 2-2 ward a 4 non lo giro però perché se no il suo il suo effetto a meno che non ho altri pezzi con disguise non lo faccio quindi lo faccio al turno 5 4 no scusate non è vero non è vero reset lo disguiso a 3 il turno dopo ho 4 mana se faccio l'endrop io posso fare disguise lui a 2 e pago 2x e congiuro un duplicato quindi non lo tolgo dal mio mazzo di una creatura con costo di mana 2 non inferiore proprio 2 specifico e la clocco cioè la metto sul campo di battaglia sghisata quindi faccio un 2-2 ward quindi io con 4 mana faccio 4-5 volante 2-2 ward a me sembra fortina quella carta qua ragazzi che poi quando lo girerò quel 2-2 ward io posso ripagare x è una bomba quella cosa qua per se c'è il mazzo disguise è una bella bomba quella roba qua è una bella bomba promossa al 100% cosa volete dire è forte quella carta qua questo è 3 mana 2-2 ward la giro e faccio doppio pezzo uno è un 4-5 volante l'altro è un 2-2 ward è forte si il disegno è bruttino è umano però è umano tra l'altro quindi può anche andare in sinergia con tante cose dai ragazzi è forte promossa al 100% Tajik tornato legends valor 4 mana 1-1 leggendario creatura soldato fa sempre più schifo Tajik la statistica è incredibile indistruttibile rapidità all'inizio del combat nel tuo turno metti un segnale più 1-1 su di lui quando poi congiuri una carta con mana value uguale al numero di segnale più 1-1 su Tajik dal suo spellbook sul campo di battaglia anche quella rapidità fino alla fine del turno vabbè è forte però è un 4 mana ziopera però è un 4 mana cioè faccio 4 mana rapidità 1-1 sono morto da monored 30 turni prima dai è vero che il suo spellbook potrebbe avere delle spell che valorizzano questo 4 mana 1-1 però boh cioè e poi perché non le hanno spoilerate insieme agli spellbook come cazzo si fa a sapere se è forte o no e dammeli gli spellbook che ti frega dammi gli spellbook senza gli spellbook come faccio eccoli qua gli spellbook ci sono sono sotto fermi allora reset allora scusate erano sotto li ho visti adesso scritti allora quello di Tajik è questo il bonus recruiter la swift blade gli sky knight legionaire lo spark trooper e aurelia è random o la scegli? ah in base ai suoi ai suoi segnalini quindi di primo di primo tu congiuri lui è un 1 quindi congiuri un 1-1 poi di secondo questo no ma fa cagare ragazzi quella caratteria qua è bruttissima è orrida a dir poco cioè 4 mana ti fa un value 2-2 indistruttibile più 1-1 ragazzi fa schifo quella carta qua andiamo a rivedere quella di prima un attimo andiamo a rivedere quella di prima che questa abbiamo scoperto che fa i signet e i signet che fa sono la Zorius il Boros cioè tu fai un signet tappato praticamente e uno lo prendi in mano è scarsa andiamo a vedere questo 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 fa il nulla no questo scusate era quella che avevamo già sbagliato non è questa era Emara la spell questa Emara fa l'imperiosauro ah fa tutte carte con convoc ah ah hai capito Emara quindi ho di secondo Sbiagun ma non dice pare i segnalini che ha su Tajik no no ti fa il drop a uno ne prende uno di segnalino non ne prende due allora lei lei ti fa tutte carte con convoc che voglio dire non è che ci fa schifo in un mazzo fatto apposta no sì se lesnia pedine se lesnia aggro lei è l'unica che mi piace per ora di di quel tipologia di spellbook qua questa fa veramente vomitare ragazzi questa fa veramente vomitare scurde shin due mana azorius incantesimo quando entra nel campo di battaglia crei un 2-2 detective creator token quando sacrifichi un artefatto scegli una creatura nella tua mano o una creatura che controlli e perpetualmente prende più uno più zero allora molto interessante è molto interessante questa ragazzi questa si gioca questa si gioca questa si gioca questo è un incantesimo che si ripaga da solo perché comunque fai 2-2 lo puoi giocare in 4 per i mazzi giusti ma io lo sto pensando anche in azorius artifact da historic cioè ogni volta che io sacrifico un tottero una mia creatura in mano probabilmente perché non so quanta bordo avrò o in mano o in campo comunque prende più uno più zero perpetualmente ragazzi e sta bene anche con all dead glitter perché è incantesimo con bolla in timeless si può giocare è vero raga 4 per gratis secondo me questa è veramente forte 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 ragazzi questa è forte 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 anche con drag the canal è vero promossissima bella talk string analyst 2 mana 2-2 umano mago all'inizio della tua un keep esidi la prima carta del grimorio di un avversario a faccia in giù perdi vite uguale al suo mana value e come fai a sapere qual è il suo mana value puoi guardare giocare ah puoi guardare quella carta e giocarla fintanto che rimane esiliata ah e puoi lanciare il mana di qualsiasi colore ah è stronza è stronza tanto eh è più forte di dark confident ragazzi questa questa è molto più forte di dark confident se esili ulamog perdi 10 sì però poi se arrivi a decimana lo puoi castare intanto gli hai tolto ulamog ragazzi è forte perché allora pensiamola pensiamola sulle terre di oppo io gioco le sue terre cioè io praticamente gli tolgo una pescata di terra e la gioco io non ho perso vite già su quello è forte ragazzi cioè alla fine è un pesco uno tutti i turni che schifo non ci fa comunque deve arrivare all'unkip quindi non è che lo fa quando entra deve arrivare all'unkip però a me non dispiace ragazzi cioè se tu la fai in curva a due mana c'hai un pesco uno gratis praticamente uso le vite per pescare uno in più però se sono le terre di oppo io rampo non perdo vita tolgo una pescata di terra se ti fanno lo spacchino di turno gli hai fatto usare una removal dark e non hai fatto niente te non hai perso io lo provo questo in qualche mazzo ragazzi si prova poi non lo so possiamo giocare in grixis contro con fiamma di anor quando ti ha fatto troppi danni te lo spari peschi due non lo so è da provare ciao sarno è da provare carino mi è piaciuto e poi chiudiamo con veco deaz doorkeeper due mana uno tre leggendaria creatura spirito clerico con extort az se crevi che uno non spirit creator fai tornare una creatura dal tuo cimitero alla tua mano perfettualmente diventa uno spirito e a forza base costituzione base uno uno e guadagna puoi pagare mana ibrido nero bianco invece che pagare il costo di mana di questa spell però lo attivi solo a strega allora vado solo a vedere cos'era extort perchè si giocava tanto tempo fa e non ricordo bene il ruling ah è drain life giusto? esatto quindi se tu lanci questa e lo fai quando la lanci però giusto ragazzi non sempre esatto quindi ogni volta che lanci una spell puoi pagare un mana o nero o bianco e ti fa drain life 1 è già forte è già forte ma io posso copiarmi ulamog madonna ma è fortissima questa carta ragazzi ma non è fortissima questa carta qua cioè questa carta mi fa castare una moga umana e io slando due a oppo vabbè abbiamo capito qual è la vera bomba dell'espansione ho capito va bene fai a tracks a umana eh il problema grosso però qual è ragazzi aspettate però ce l'ha la sfiga eh perchè devi sacrificare una creatura non spirito devi sacrificare e quante creature non spirito abbiamo che possiamo sacrificare per fare questa cazzo se stessa oh mio dio no è spirito non si può fare se stessa solvarden solvarden cioè faccio turno 1 solvarden turno 2 mi millo roba turno 3 questa a turno 4 reanima è un po' lenta però ragazzi è un po' lenta forse è un po' troppo lenta però forse è un po' troppo lenta eh lo so ragazzi che possiamo usare il goblin putrido eccetera eccetera però il problema grosso è che questa deve tappare per fare l'effetto e quindi non puoi farlo a turno 2 lo fai a turno 3 deve essere rimasta in vita questa e la creatura e in qualche modo ti sei millato ah no no ma sti cazzi fai quella che fa fai quella no scusate fai quella che fa dredge ti milli 3 se tra le creature che hai millato c'è una creatura che rianimi fai questa turno 2 se sopravvive questa spacchi quella che ha dragato ti draghi 3 ritorni pezzo no è forte dai è forte è forte è forte è forte è forte può andare in combo con tanta roba è carina è una bombetta si è una bombetta è una bombetta si c'è anche massisteria però non penso che varrà mai giocata in un mazzo come questo si può rompere questa è carina dai promossa beh raga c'ha qualche bombetta però niente di che cioè siamo sempre alla solita allora quelle veramente forti sono shovaside il guild pact questo lui è interessante ma nulla di che questa è forte e va è forse questa da provare poi di molto interessante c'era e mara da provare questa e questa il resto è tutto da provare meglio di alchemy x si alchemy x l'ha fatto cagare ragazzi meglio di alchemy x l'ansi dai interessante interessante peccato che molte spell si giocheranno solo ed esclusivamente in alchemy di quest e sappiamo tutti che cos'è alchemy peccato allora ragazzi